Cosa vi faccio commentare? L'ultimo cd vi è piaciuto? Chissà cosa ci farà ascoltare questa volta a Sanremo. Ha vinto Sanremo 2018! Andrà con Cristinchi. E lo so che non esce una canzone, ma anche l'anno scorso. Arriva per voi quest'oggi un San Giuliano, eletto di presentore di lui, un grande artista italiano, Erbal Meto! Voglio sentire ancora il calore di Napoli! Per lui, un grande artista italiano, Erbal Meto! Grazie a tutti! Mi sentite? Buongiorno a tutti! Grazie a tutti! Non è sempre l'entusiasmo? Vogliamo sentire il calore di Napoli! Grazie, grazie! Ti aspettavo alle 13! Non di oggi, di ieri! Quello qui da ieri! Sì, sì! Ciao a tutti! No davvero, davvero! C'era gente al centro commerciale, hanno aperto insieme il centro per te! Volevano stare qui in prima linea! Beh, devo dire che il calore di questa terra è sempre lo stesso! Sempre lo stesso! A tal punto che mi sorprende sempre poco! Perché non so già che è come essere a casa in qualche modo! E per questo c'è un applauso ancora più forte! Ti vogliamo bene! Cioè, la tua musica ci abbraccia sempre! Oggi anche da fan, te lo dico! Quindi, non vediamo loro di far salire subito i tuoi fan! Farli abbracciare! Perché vogliono abbracciare! Toccarti proprio! Non c'è l'ascoltare la tua musica! Ascolta, Sanremo è alle porte! Ti faccio quest'ultima domanda, poi vado via! Scopai e ti faccio tagliare tutti i panni! Sanremo alle porte! Tu sarai... Cioè, il senso è stato invitato da Cristicchi! Sì! Quindi, siamo... Ti rivediamo in tv! Assolutamente! Ok, però il tuo tour sta andando... Sta andando alle grande! Abbiamo iniziato qualche giorno fa e ho fatto una roba di Milano, è andata molto bene! E domani ci può arrivare! Quindi, se stassi là, avrete pochissimo tempo per stare con Erma! Ma domani andate a trovarlo! Assolutamente sì! Mi aspetto! Tutti forse non ci ritranno... Ok! Allora, ti ringraziamo! Faria ancora un forte applauso a Erma!